Nel pomeriggio di sabato 26 febbraio si è svolto presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano la tradizionale festa di carnevale. La ricostruzione del fantastico mondo di Toy Story con le avventure di Woody e Buzz ha fatto divertire i bambini di tutte le età. Tutti i giochi e il teatrino delle marionette sono stati ideati e realizzati dai giovani delle associazioni, dall'azione cattolica agli scout all'isola che non c'è. Il ricavato è andato a favore delle attività dei gruppi parrocchiali. Il sabato 5 marzo si è svolto a Lede, nell'oratorio cittadino, il tradizionale carnevale. All'ore 14.30 tutti i bambini si sono ritrovati nel cortile dell'oratorio per fare quattro passi nell'universo. Infatti il titolo scelto per il carnevale 2011 era appunto a spasso per l'universo, a caccia della cosa verde. Giochi, gare, spettacoli per tutti i grandi e piccini e alle 16.30 la proiezione del film Megamind. Come di consueto i giochi sono stati organizzati dalle associazioni presenti all'oratorio, dagli scout del gruppo Carpi 1, al gruppo dell'hip hop, l'inchiostro, la scuola Sacro Cuore, l'azione cattolica ragazzi della cattedrale di San Francesco e di San Nicolò.